è caldo, ci sono 5 minuti siamo qua con Alejandro Romano e oggi si va a Averau dal parcheggio 5 torri oggi inverto il ruolo del youtuber non c'è tanta neve si va un po' a ridento bene, buongiorno amici oggi la nostra avventura parte da qua dal parcheggio delle 5 torri andiamo su fino al rifugio Averau e poi tentiamo anche la cima è Nick che va Nick che si fa avanti e indietro e vieni a recuperarmi io adesso qua stacco perché come sei guggio e adesso qui stacco perché scendo e mi ammazzo vabbè ci proviamo adesso qui vi facciamo vedere un pro race e un merenderos il merenderos dello sci deve essere dai si intravede il sole c'è già speranza finché c'è sole c'è speranza fatica 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 eh dai è una delle prime uscite però già un po' di panorama ahahah video doppio video video sul video doppio video video sul video oggi eccolo i primi raggi di sole dietro il bosco si sale ehi primi raggi di sole no si apre qua tutto il panorama è figata eh questa è la parte che più mi piace perché si apre qua no si apre qua tutto il panorama è figata eh si 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 assolutamente la fatica viene ripagato dal minimo di panorama come si apre il panorama bello qua eh c'è tanta aria in cima eh oggi un po' così cinque torri che ci guardano e via ecco qua si vede il rifugio cinque torri chiuso ovviamente qua il Nouveau in cima lì fantastico e noi a salire a far fatica sì ora mi trovo qui giù le cinque torri abbiamo la deviazione che in maniera estiva ci porta al rifugio scoiattoli o per fare il giro d'anello delle cinque torri e il panorama stupendo sicuramente ci sarà un po' di sole là un po' di sole un po' di vento un bel po' di vento arieta ideale lassù sì il solito sentiero 439 che ci porta su è arrivata un po' d'aria eh ma c'è un po' di arieta eh che bici ma cazzo ma cazzo qui stiamo lottando stiamo lottando contro il vento è la fine però ce la faremo forse ma che spettacolo di panorama guardate che roba ho preso scogliattoli ultimi metri alla Verao la Verao la Verao la Verao sì ma è una fiche ah guarda ebbene sì la prima tappa di questa avventura raggiunta infatti la prima tappa è il rifugio Verao e quello eravamo praticamente sicuri di arrivarci da adesso in poi è tutta un'avventura perché bisogna vedere appunto la condizione della neve lassù però intanto adesso cambiamo assetto passiamo da merendero sci alpinista a merendero alpinista rifugio rifugio Averau arietta che ci bacia andiamo a fare un tentativo di andare a prendere la ferrata a Verao vediamo cosa riusciamo a fare col mitico Alejandro tentativo si tentativo 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 con Nick a cima della Verao neve fresca proviamo andare a vedere più o meno dove è l'attacco della ferrata come è girare questo lavoro andiamo a trovare il cavo la gente che va su di Nemo Lau e noi che proviamo tentiamo ferratina il cavo si vede condizioni estreme qua tentativo di 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 attraversare ma si continua e ci sono scogliattoli a di no a di no a di no a di no condizioni estreme qua questa ferrata non manca tanto che viene giusto stasso qua eh c'è lo scogliattoli ah si noi siamo qua arroccati arroccati alla ricerca della ferrata adesso vedo dov'è bello qua si 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 c'è un buco il grico le avventure di le avventure di vai Aleandro che ce la facciamo eccolo iniziamo la ferratina Aleandro alla grande ecco qua top si va su alla grande come ridere si si vola si vola si vola si vola vai come qui come qui bella la croce la croce è lì in vista ma c'è un metro esagerato e niente ritirata via Sì Sì Vieni, vieni Vai, vai Vieni, vieni 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 La prossima volta con le sci Dall'Averau ci amiamo Via Vieni 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 Sì Vieni 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 Sì sì! Buenos Aires! Buonasera! Buonasera! Hai fatto uno dino serio eh? Chi? Tu! Mio! Vai Aleandro! No! Allora non abbiamo raggiunto la cima ma ci è mancato molto poco dai! Io ci arrivo! Sì! Si arriva di te alla grande! La ferratina è sposta! È sposta! Giusto! Sì! E via! Eccomi qua! Oggi è finita così! Purtroppo non abbiamo fatto la cima della Verau! Noi volevamo fare la solita gita con gli sci fino al rifugio e poi scendere dalle piste! Però volevamo aggiungere appunto la ferrata e la cima! La ferrata l'abbiamo fatta! Purtroppo sopra c'era tantissimo tantissimo vento! Non è che non ce la siano sentita ma veramente bisognava star lì a ravanare come si dice! Con la neve fresca, con il vento, insieme di cose! Allora abbiamo deciso di tornare indietro! Al rifugio abbiamo rimesso gli sci! Tirate via le pelli! Sono sceso per la pista rossa e non sono caduto! Che già per me è un piccolo grande traguardo! E almeno abbiamo passato una giornata diversa in un posto veramente veramente bello! Addirittura hanno chiuso la seggiovia perché c'era tantissimo tantissimo vento! Non era neanche più sicuro! Siamo scesi dalle piste erano libere per me che sarei andato addosso a tutti! Io spero che il video vi sia piaciuto! E ci vediamo alla prossima ventura! Ciao!